Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere e fare con voi l'unboxing delle Chine di Ferro Cos'è Chine di Ferro? Chine di Ferro ha prodotto nel corso degli anni delle sagome metalliche dei personaggi più famosi del cinema e dei fumetti Zagor è stato fatto alcuni anni fa e io ho sempre aspettato a prenderlo, non so perché Ma allora accorgendomi che insomma cominciavano a finire perché ho una tiratura limitata di 199 pezzi Questa è la numero 88 e ho deciso di prenderla e devo dire che ho fatto benissimo perché ho visto delle immagini Che poi vedremo se corrispondono al vero che sono incredibili Intanto la confezione è una bella confezione di carta grezza rifinita Qui c'è l'immagine di Zagor col numero limitato, questo è l'88 L'impostazione grafica del personaggio E dietro Cosa c'è dietro? Ah qui c'è una descrizione di cos'è e cosa ha fatto Chine di Ferro Andiamo a vedere questa di Zagor Allora Eccola qua Allora intanto è bella spessa, sarà spessa almeno 2 o 3 mm Eccola qui Accidenti, bella 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 Ora poi la vedremo nel dettaglio Intanto vediamo nella scatola se ci fosse per caso qualche altra cosa Ah si c'è un certificato Di Chine di Ferro Con i riferimenti del sito e della produzione Bene, rimettiamolo via Adesso andiamo a vedere nel dettaglio questa sagoma di Zagor Allora Questo è tutto intagliato E c'è scritto dietro E lo vedrete Sergio Bunel editore Ovviamente per i diritti Numero 88 di 199 Del 2016 addirittura Quindi io mi sono deciso Un po' tardi a prenderla Ma devo dire ragazzi che è bellissima Bellissima A parte che è pesante Ma poi è rigida Non flette Ed è disegnata benissimo Cioè qui è vuoto Non so se si riesce a vedere l'interno Qui ecco ci passa anche il dito Bella bella Poi non so come spiegare È una cosa una figata pazzesca Una figata pazzesca Adesso Ah qui anche la rifinitura della pistola I lacci No ragazzi È fatta Curata nei minimi dettagli Soltanto il volto Fatto con queste Cioè lavorati In sagoma Così sono incredibili La cosa Spettacolare L'effetto che dà È che Se voi mettete questa Sagoma Su un piedistallo Con una parete bianca dietro Avete una camera In sala O in uno studio E ci proiettate una luce Adesso vi faccio vedere cosa Come mi hanno detto Può succedere Allora Io vi do un po' di sfondo Così E poi vado a prendere Una luce Per farvi vedere Guardate che meraviglia Incredibile ragazzi Pensate questo proiettato Su una parete Cioè grande Che ne so Un metro A grandezza d'uomo Se la prendete bianca In salotto Cioè è una figata Pazzesca ragazzi Pazzesca Cioè hanno fatto Una cosa strepitosa Spero che dalle immagini Renda bene Come Come Ti puoi avvicinare Anche a far vedere L'effetto dell'ombra Cioè ma poi Non Non Anche l'intaglio Dell'aquila Cioè è dettagliatissimo Cioè non è Il taglio è perfetto I lacci della scura Cioè fai vedere un po' Di dettagli Della cintura Avvicina la scura Fai vedere la scura Qui sull'interno Cioè è incredibile Ragazzi Incredibile Cioè hanno fatto Una cosa clamorosa Io non Me l'avevano detto Ci credevo Ma vista dal vivo È una cosa Spettacolare Cioè questo in uno studio Su una scrivania In camera Voglio dire Mi ci mettete un led Qualcosa che adesso Vi trovate a durire Lo proiettate sulla Sulla parete O anche solo così Eh attenzione Perché anche se Non c'è la luce Cioè fa una figura Pazzesca Perché sarà alta 30-35 cm Cioè è altissima È una cosa Spettacolare Ragazzi Spettacolare Vabbè Allora Queste sono le Chine di ferro Chine di ferro Di Zagor Oh Ho lasciato la luce Scusate Mi casca tutto Io ragazzi Per chi è un amante E chi è interessato La consiglio Perché una tiratura Di 199 pezzi Sono pochi Sono bellissimi Ma poi ha una resa Che io non ho visto In nessun'altra cosa In nessun'altra cosa Veramente Complimenti Bravi 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 Va bene È tutto Per ora ragazzi Vi rimetto anche qui La scatola Per farvela vedere insieme Alla prossima Ciao a tutti